Il gatto pardo, cari amici, il gatto pardo, vedete Barbara Langerper che svolge il ruolo del principe di Salina, qua siamo nel grande ballo che rappresenta la parte finale del film che è tratto dal romanzo omonimo Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pensate che il romanzo Il gatto pardo ricevete tanti rifiuti, fece scalpore il rifiuto da parte di Elio Vittorini che non vuole pubblicarlo per la casa di Triceinaudi, anche io ho ricevuto tanti rifiuti, ma alla fine le mie opere sono state pubblicate e chissà, forse un giorno quando io sarò morto da qualcuna delle mie opere, ve l'ha tratto un grande film, beh, eccolo qua il gatto pardo, cari amici, sentiamo, 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 sentite che bello? a me è del lato 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 a me è del lato